Molti spunti interessanti nella quinta puntata della trasmissione Versilia Future Planet Friend, andata in onda in diretta su New TV lunedì sera dal Bagno Venezia al Lido di Camaiore. Ospite l'ex allenatore Eugenio Fascetti con stimolanti scambi di opinioni con il giornalista Giovanni Lorenzini e sollecitato anche dal conduttore Claudio Sottili. Si è soffermato anche sulle ultime novità l'ingaggio di Andrea Pirlo, la promozione o meglio dell'ex centrocampista bianconero sulla panchina della Juventus e l'esonero di Maurizio Sarri. Collegati in diretta anche il giornalista sportivo della Sette Bruno Vesica, il direttore generale della SPAL Andrea Gazzoli e Alberto Di Chiara, ex allenatore e procuratore sportivo. Cosa pensa Eugenio Fascetti invece del nuovo allenatore della Juventus, Pirlo? Beh insomma, io la prendi un argomento un po' delicato, insomma vedremo. Però ripeto, non trovo giusto che uno che è uno studente, per adesso è uno studente perché credo che abbia frequentato i banchi di Coverciano, leggevo insieme a Tony, deve dare ancora l'esame e già fa il professore, insomma è fatto molto presto. C'è già stato un caso, togliamola la scuola perché è inutile che ci sia, tanto le società fanno quello che vogliono. Perciò, perciò, perciò.